Il Papa ha celebrato la messa a Casa Santa Marta nel giorno in cui la Chiesa ricorda la Madonna di Fatima e nell'introduzione Francesco ha rivolto il suo pensiero a studenti e insegnanti. Prighiamo oggi per gli studenti, i ragazzi che studiano e gli insegnanti che devono trovare nuove modalità per andare avanti nell'insegnamento che il Signore gli aiuti in questo cammino, gli dia coraggio e anche un bel successo. Nell'Omelia il Papa ha affermato che la vita cristiana comporta il rimanere in Gesù. Questo rimanere non è un rimanere passivo, diciamo un addormentarsi nel Signore. Questo sarebbe forse un sonno beatifico, ma non è. Questo rimanere è un rimanere attivo e anche è un rimanere reciproco. Francesco ha spiegato che tutto questo si traduce nella testimonianza da parte di ciascun cristiano. E questa è la vita cristiana. È vero, la vita cristiana è compiere i comandamenti, questo si deve fare. La vita cristiana è andare sulla strada delle beatitudini, questo si deve fare. La vita cristiana è portare avanti le opere di misericordia, come il Signore ci insegna nel Vangelo. E questo si deve fare. Grazie. 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 Grazie.